La porto a casa in tacco. Ma sì, sì, che se ne vada. Si fa uno scotch e torna la struzza di prima. Che avete da guardare? Siete solo una manica di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato per stare dove vorreste stare. Voi avete bisogno di gente come me. Mi serve raggette come me. Così potete puntare il vostro dito del cazzo e dire quello è un uomo cattivo. Beh? E dopo come vi sentite? Buoni? Voi non siete buoni. Sapete solo un ascolto. Solo di le cugine. Io non ce l'ho a questo problema. Io dico sempre la verità. Anche quando dico le cugine. Coraggio. Augurate la buonanotte al cattivo. Coraggio. E' l'ultima volta che lo vedete un cattivo come me. Ve lo dico io. Noi. Fate passare l'uomo cattivo. Attenzi sta arrivando il cattivo. Vado da parte. Coraggio. 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 Coraggio.